Questo 2016 Albino si avviera verso la tariffa puntuale, eppure dice la minoranza è passata la metà di gennaio e dei bidoni con microchip e neanche l'ombra. Sì, i bidoni sono in arrivo per gennaio. Abbiamo approvato in Consiglio Comunale la deliberazione con cui si andava ad adottare la tariffa puntuale e a questo punto a gennaio si è fatto l'impegno di spesa e si è dato l'incarico per acquistare i bidoni. Questi devono essere realizzati, microchipati. La consegna è prevista quindi dopo la metà di febbraio. D'altra parte abbiamo previsto una fase di transizione molto ampia. Fino a giugno del 2016 sarà possibile ancora usare i sacchi rossi. I cittadini albini hanno quindi tutto il tempo per passare dal sacco rosso, dal sacco prepagato, al contenitore con il microchip. A breve organizzeremo una serie di incontri sul territorio frazione per frazione per spiegare meglio accompagnando la distribuzione successiva dei bidoni anche con una nuova guida. Oltre che spiegare come utilizzare il contenitore col microchip vogliamo anche poi fare un ripasso generale su quello che si può differenziare, su cosa può essere messo nel secco piuttosto che nell'umido, la plastica, il cartone e il vetro. Abbiamo proprio voluto sviluppare una guida molto più ampia con un ripasso proprio generale perché è vero che Albino è uno dei primi comuni che ha fatto la differenziata, ancora con il primo mandato Cugini dal 1995 in poi. È anche vero che ogni tanto un ripasso è sempre necessario, una guida che sarà in quattro lingue. Oltre che all'italiano avremo l'inglese e anche l'arabo è una quarta lingua. Per cui veramente siamo molto fiduciosi in questa nuova soluzione della tariffa puntuale attraverso il contenitore a microchip. Volevo ricordare che nella regione Veneto ben tre province stanno adottando questo sistema con un bacino d'utenza di 500.000 famiglie. In Trentino Alto Adige abbiamo anche sistemi più evoluti dove non c'è il contenitore con il microchip ma piccole stazioni, piccole oasi ecologiche nelle vie o nei quartieri dove si adotta comunque ancora il sistema con il microchip o il codice fiscale. Un sistema certamente più evoluto ancora rispetto a quello del contenitore. Io ritengo che la cittadinanza di Albino, che i cittadini Albino siano ormai maturi per arrivare anche a quest'ulteriore step. Il sacco rosso, il sacco prepagato era una fase di transizione adatto ai buoni risultati. Possiamo ottenere altrettanti buoni risultati. Abbiamo già un grande livello di differenziazione ma con il contenitore microchip potremo meglio controllare le dinamiche, lo stile di vita dei nostri cittadini, cosa che non è possibile fare adesso con il sacco prepagato, e controllare anche l'operatore sul territorio. Per cui un controllo più capillare sull'andamento della raccolta e della differenziazione dei rifiuti sul territorio di Albino. Che costi avrà questo cambiamento per il comune di Albino? Lo start-up e l'acquisto di questi nuovi contenitori, che sono più di 8 mila, non comporterà nessun aggravio al cittadino sulla tariffa rifiuti. Questo perché? Perché i bidoni vengono acquistati con fondi, con risorse, che non sono state utilizzate per finanziare dei servizi accessori complementari che erano previsti nell'appalto con Bergamelli. Già quando ci siamo insediati questi servizi accessori complementari, non li aveva attivati la Presidente Amministrazione degli Arancioni, da un anno e mezzo era già in atto il servizio con la ditta Bergamelli. Sono servizi accessori mai attivati, che anche noi riteniamo non necessario attivare, e per cui quei soldini destinati a coprire questi servizi complementari li usiamo ad acquistare i bidoni e altre apparecchiature necessarie a questo nuovo sistema di raccolta del bidone con i microchip.